Siamo in compagnia di Maria Grazia Rizzo, titolare della profumeria Glamour, gruppo Riflessi, località Mattine ad Agropoli, per parlarvi di tutte le novità che sono presenti in questa bellissima attività commerciale. Ecco, come vedete proprio qui davanti a noi tutti i nuovi arrivi dei profumi che nella profumeria Riflessi sono presenti. Ma adesso chiediamo proprio a Maria Grazia, oltre ai profumi, gli altri prodotti che sono arrivati a disposizione ovviamente dei clienti. Abbiamo una vasta scelta di make-up, partiamo dal più conosciuto Diego Dalla Palma per arrivare alla Collistar, Rouge Bezier e i più commerciali L'Oreal, Debbie e Deborah, per poi arrivare a Chanel, Lester Loder e tanti altri marchi per tutte le esigenze. Ovviamente all'interno della profumeria non ci sono soltanto trucchi, profumi, insomma creme, ma c'è anche un reparto di abbigliamento. Quindi ecco, diamo anche delle informazioni in merito a questo angolino molto delicato che dà la possibilità di scegliere qualcosa di diverso da quello che si trova normalmente in profumeria. Sì, abbiamo una vasta scelta per le donne, a partire dalla taglia 38 per arrivare oltre la 60, il conformato. Abbiamo una vasta scelta di belletteria, portafogli, borse, bisotteria. Ci allarghiamo con l'argento per passare a marchi conosciuti e meno conosciuti. Enrica, perché scegliere Gruppo Riflessi? Perché dicevo un'ottima accoglienza in verità. A me piace molto partecipare e avere a che fare con persone educate. Non è sempre così comunque. Un po' il nervosismo è di prassi, un po' tutto quello che è successo. Comunque adesso io sto per esempio nel caso mio, sono venuto a rifornirmi un poco, io non sono del posto. Vengo da Fodimo e poi mi trovo benissimo. Ho buoni consigli, mi trovo bene, ottimi sconti anche al momento debito, su tutta la gamma, sia abbigliamento, sia i profumi e sia i trucchi. Oggi sono venuta per i trucchi perché ho cambiato un po' il mio look. Prima ero di un altro colore di capelli, adesso ci vuole un look diverso per questo colore. E allora ho trovato proprio una graziosissima persona, Maria Grazia, gentilissima. Cioè ti fa venire la voglia di comprare, ecco. Raffaella, perché scegliere il Gruppo Riflessi? Allora, perché quando vengo qui riesco a trovare sempre tutto quello di cui ho bisogno. Poi ci sono Maria Grazia e le commesse che riescono sempre ad accontentarmi con questa grande capacità di prodotti che troviamo. Grazie.